Se chiudono le nostre stalle muore la nostra agricoltura. Il campanello d'allarme arriva dall'assessore a ramo Nicola Cavaliere, sempre più preoccupato dalla crisi del latte e dei danni che ne conseguono. Cavaliere si rivolge principalmente alle aziende di trasformazione e distribuzione, che sempre più spesso preferiscono rifornirsi da produttori esteri, i quali adottano prezzi a ribasso, spesso a discapito della genuinità del prodotto. Per questo è stato convocato un tavolo di filiera che riunirà allevatori e trasformatori per cercare insieme soluzioni concrete. La crisi del latte, spiega l'assessore regionale, non è semplicemente la crisi di un prodotto, ma mette in discussione la nostra identità, il futuro delle aree interne e di tante famiglie. È un problema che va oltre le mere questioni economiche. In ballo c'è la tenuta sociale dell'intero territorio. A rendere la strada in salita è certamente il regime concorrenziale europeo, che rende complicato un intervento della regione sulle scelte aziendali delle imprese locali, ma afferma, Cavaliere, attraverso il dialogo e il confronto si potrebbe giungere a soluzioni che facciano bene al Molise. L'idea quindi sarebbe quella di trovare un accordo economico sui prezzi della materia prima, affinché alla qualità del latte molisano possa seguire anche una scelta industriale di sviluppo che riguardi lontano e non solo al breve termine. Un percorso non semplice, ma che scongiurerebbe scenari drammatici per l'intera filiera.